ciao a tutti come diviene divisa la preistoria la preistoria viene divisa in paleolitico età dell'età pietra antica mesiolitico età dell'età di mezzo e neolitico età della pietra nuova in cui l'uomo inizia a lavorare la pietra le diandola e fa un'importante invenzione vi raccomando non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche relative alla storia ciao ci vediamo al prossimo video